Nonostante dati migliori da parte del tasso di inflazione, Bitcoin ha iniziato una gamba ribassista, la seconda gamba ribassista, il secondo trend ribassista importante dall'inizio di questo nuovo ciclo annuale. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, previsioni Bitcoin della settimana, in fine settimana e analisi delle news di quello che è successo. Allora, sostanzialmente ragazzi, Bitcoin ha provato anche nella giornata della pubblicazione del tasso di inflazione degli Stati Uniti che è stato rinvenuto più basso in sostanza di quello che dovevamo avere e ha provato anche una fase di pump. Poi però è successa una cosa strana, cioè una candela di manipolazione molto pronunciata, molto importante, che ha riportato Bitcoin al di sotto di livelli chiave da un punto di vista di analisi tecnica, al di sotto di livelli chiave da un punto di vista di analisi ciclica e da lì, in sostanza, non c'era più scampo. La fase di continuazione della discesa era molto probabile e così sta facendo. Perse tutte le speranze, iniziamo una nuova fase ribassista che perdurerà per tanto tanto tempo. Le questioni si sono complicate, già ve lo dico in maniera aperta, perché la chance di Bitcoin di superare i massimi, arrivare intorno ai 32-35 massimo, quella zona lì che avevamo visto nelle scorse settimane, si sono molto affievolite, sostanzialmente almeno in questo ciclo semestrale, cioè in questa parte del ciclo annuale di Bitcoin iniziato a novembre, che sostanzialmente ormai andrà a chiudersi così. Poi la seconda parte dell'anno ancora le probabilità ci sono, però, ragazzi, diventa tutto più fumoso, tutto più offuscato. Come vi dico già da qualche settimana, i giochi erano stati fatti e sostanzialmente questo è quello che abbiamo visto. Non è detta, cioè non abbiamo perso l'ultima speranza, insomma, di vedere nuovi massimi per quest'anno 2023, ragazzi, però sostanzialmente questa fase di ribasso e quindi il fatto che questo movimento a rialzo, ragazzi, vedete, non ha fatto l'ultimo spike, cioè non è andato a breccare questi livelli portandosi in zona 32-33, ha annullato la possibilità che Bitcoin, almeno in questo ciclo trimestrale, che andrà a chiudersi probabilmente in questa zona temporale, possa andare a fare nuovi massimi. Quindi o tronca questo ciclo, oppure va imploso naturale. Ciclo si chiude a giugno, stelle in main. Ecco, è quello. Di nuovo questa questione, il famoso minimo di maggio, non è un minimo, per fortuna, assoluto, in fase, diciamo, storica, ma è un minimo relativo che probabilmente i mercati stanno andando a cercare proprio in questi giorni. Facciamo un'analisi subito delle news relative all'inflazione, quello che mi aspetto, ragazzi, anche è l'atteggiamento dei mercati, quello che secondo me sta cambiando ormai negli ultimi mesi relative ai dati macro, e poi facciamo analisi ciclica, aggiornamento e tutto quello che c'è da dire. Allora, tra le altre cose volevo fare prima di tutto, ragazzi, un briefing a tutti quelli che di voi erano a Roma, alla Prochain Week Room, ci siamo visti, salutati, abbracciati. Insomma, sempre bello vederci dal vivo, sempre bello stare insieme, fare un sacco di fesserie, insomma, siamo divertiti, ovviamente, si esce un po' fuori, no? Dalle questioni della precisione delle cose, del canale, del trading, eccetera, e si diventa più umani, quindi è bello incontrarsi proprio per questo. Quindi io saluto e ringrazio tutti quelli che sono venuti lì a salutarmi, ad abbracciarmi, a ringraziarmi per i vari contenuti. Insomma, come sapete, mi avete visto insomma dal vivo, io sono veramente contento di vedere sempre i follower della community e la community italiana in generale, insomma, crescere e anche in periodi, insomma, difficili, no? Difficili come questo, perché, ragazzi, cavolo, è un periodo difficile. Lancio la moneta, non la lancio tanto, mi è venuta sott'occhio, ancora qui, adesso lancio la moneta, vediamo un po'. Per la fine dell'anno era meglio che non la lanciava. Ok, va bene, iniziamo. Relativi dati, relativi all'IPC, tasso di infrazione 4,9% rispetto al 5%. Mi provo però a parlare con gli altri ragazzi, altri youtuber, proprio in vista dell'uscita di questo mercoledì e la mia idea era molto schietta e sincera. Gli avevo detto, il tasso sarà o uguale al previsto o più basso, perché i mercati stanno scontando quello, però sostanzialmente non si aspettavano grandi novità, grandi variazioni. A dire la verità, questo tasso di infrazione un po' più basso può sembrare chissà cosa, ragazzi, però in pratica i mercati hanno già scontato totalmente questa cosa qui, perché il processo dell'inalzamento dei tasti da parte della Federal Reserve è arrivato a target, la Fed aveva indicato 5,25, 5,50. Così è stato, ragazzi. Anzi, a dire la verità, io personalmente mi aspetto che il prossimo FONC, la Fed, continui a dare l'ultimo schiappone con un rialzo dei tassi, ma i mercati non si aspettano questo. già ve lo dico perché il grafico, insomma, delle previsioni ci dice che gli istituzionali si aspettano per giugno, 14 giugno, il prossimo FONC, che i tassi restino stabili sostanzialmente. Io personalmente credo che su questa questione qui probabilmente o Pago il prende pausa di un mesetto, appunto, oppure sì, si può un po', dovremmo un pochettino lavorarci su questa cosa, perché non è detto che la Fed, insomma, non dia l'ultimo schiappone all'inflazione, perché è vero che, ragazzi, il tasso di inflazione è sceso, ma è sceso secondo le aspettative dei mercati e secondo anche quelle che sono le aspettative della Fed. C'è stato un grande impatto anche da alcuni punti di vista, ma il tasso di disoccupazione, i sussidi, eccetera, sono bassi. Quindi i sussidi sono bassi e il tasso di disoccupazione è basso, ragazzi, negli Stati Uniti. Quindi se la Fed volesse andare a picchiare ancora il tasso di inflazione avrebbe tutte le possibilità di farlo. C'è la questione della crisi bancaria, alza ancora i tassi, falliscono le banche. Perché la Fed sapeva già, ragazzi, che quelle banche sarebbero andate in difficoltà. Probabilmente hanno già costruito dei piani di salvataggio se le questioni dovessero aggravarsi e sanno alla perfezione anche fin dove possono tirare la corda. Perché quei dati sono dati molto conosciuti, sono facili da capire perché le politiche delle banche, la Fed le conosce, insomma, le banche commerciali, no? e i dati li a tutti. Quindi sostanzialmente quando decidono poi una politica monetaria sanno anche gli effetti che vanno a provocare sul sistema finanziario. Quello che non sanno sono gli effetti che provocano sul sistema economico perché ci sono troppe variabili indirette, soprattutto sulla questione del tasso di disoccupazione, che è, vi ripeto, il vero nocciolo che è la Fed, che bloccherebbe la Fed. Cioè solo un tasso di disoccupazione che si alza in maniera graduale, molto accelerando, insomma, che bloccherebbe totalmente queste politiche della Fed piuttosto che le questioni bancarie. Perché la Fed ragiona così, ragazzi, insomma, è il loro obiettivo, la loro mission è quella. Però il controllo dell'infrazione al 2% è lontano e anche l'anno 2023 sembra comunque avere un tasso di infrazione che è comunque alto, ragazzi. Quindi che la Fed abbassi i tassi, non ci credo neanche se lo vedo, però magari lo fa per questioni politiche, che la Fed invece continui ad alzare l'ultima impennata di tassi, ci posso anche credere. Però questa è un mio opinione, ragazzi, si va in contrasto con quello che i mercati stanno dicendo, in questo momento stanno facendo questo. Mi preoccupa di più questa situazione. Perché? Perché qualora la Fed non segua questo andamento che i mercati stanno scontando, la questione invece su Bitcoin, sull'ecritto peggiorerà ulteriormente proprio a giugno. Quindi andando a creare appunto quella fase temporale maggio-giugno molto delicata, molto difficile, che ci aspettavamo dopo questo pump, che in realtà poi si è bloccato a 30.000, non è riuscito in sostanza ad arrivare su altri livelli. Non che cambiava più di tanto, perché erano comunque 5%, ragazzi. Però, insomma, era anche bello vedere nuovi massimi dal punto di vista tecnico su Bitcoin. Allora, andiamo a fare a questo punto l'analisi dei cicli di Bitcoin e soprattutto vi faccio vedere anche un'altra cosa interessante, cioè la questione che il Nasdaq sta breccando il suo livello di resistenza. Lo sta facendo in maniera graduale, molto delicata, ma alla fine sta riuscendo. E Bitcoin è completamente decorrelato da questo movimento, perché il Nasdaq da 4 di maggio ha iniziato un trend totalmente rialzista, se non una sola candela daily rossa, che vedete? Mentre se andiamo a guardare Bitcoin, ha fatto esattamente l'opposto, ragazzi. Non mi ricordo sinceramente una cosa del genere. Guardate qui, cioè solo candele rosse di Bitcoin. Questo avviene quando i mercati vanno in una chiusura di un ciclo abbastanza importante. In questo caso, probabilmente, siamo vicini alla chiusura del ciclo semestrale per Bitcoin. Per essere un semestrale non è molto debole, già ve lo dico, quindi non è una cosa estremamente negativa. Però ancora i giochi non sono fatti, anche perché, ragazzi, come vi dicevo, lo scorso video, questo doppio ciclo mensile sta andando in chiusura proprio in questo movimento di natura ternaria, che rompendo questo minimo è diventato sostanzialmente ribassista. Quindi deve andare a chiudere, al di sotto ovviamente, di questa zona, che sono i 26,8, e lo può fare ormai in qualsiasi momento. Cioè sostanzialmente questa gamba, non avendo superato il massimo, ha innescato poi una spirale alla rottura di questa trendline, che ha portato il mercato a indicare questo ciclo mensile, come ciclo mensile ribassista, che chiude questa struttura qui. Ora, solitamente, ragazzi, un mensile da 30 giorni potrebbe anche passare, se non che però, dal mio punto di vista, è possibile che Bitcoin vada a fare una chiusura in queste zone a questione di giorni, inizi poi una nuova struttura ciclica mensile, sempre corta, come questa qui, che sta facendo per chiudere poi il ciclo semestrale. E questo ci porta poi a fine maggio, i primi di giugno, con una nuova fase. E se fa questa cosa qui, cioè se manca ancora un movimento di 20 giorni circa, alla chiusura di questo ciclo trimestrale, non può essere rialzista il prossimo movimento. Questo impone che sostanzialmente la fase iniziale può avere un rimbalzo, ma poi, se fa parte di questo movimento qui completo, cioè se fa parte sostanzialmente, ragazzi, di questa struttura, questo ultimo pezzettino ritorna ad essere ribassista e deve fare un nuovo swing al ribasso così. Questo vi dice molto la questione della difficoltà di questa fase. Non c'è un'altra soluzione in questo caso, perché l'analisi ciclica non ci indica che a livello di regole e di teoria, nel momento in cui questo movimento finale, questi 20 giorni finali, che probabilmente dovrebbero esserci, vi dico francamente, appartengono al precedente trimestrale e siccome questo mensile è diventato ribassista, anche il successivo sarà ribassista. Quindi, solo ed esclusivamente se da qui inizia un nuovo trimestrale, potremmo avere un movimento del genere. Altrimenti non c'è storia, ragazzi, ok? Si va a fare una cosa così. Quindi la probabilità è 60 che il mercato vada a fare una rialzo e poi una fase ribassista. Può farlo anche in barra di congestione. Ecco, questo è l'unico speranza, diciamo, però magari fare una cosa del genere e poi tentenna, fa una cosa così per chiudere in questo modo. No, questa è la nostra speranza, come sempre. E 40% invece che da qui tronchi un movimento e inizi un nuovo trimestrale molto più pronunciato. A dire la verità, io in questo momento, quindi propendo per la prima ipotesi sul fatto che questa correzione di Bitcoin sostanziale, ma ci stava, è arrivata senza il nuovo massimo perché il massimo doveva spingere da questa zona qui e non ce l'ha fatta, vedete, si è fermato a 30.000. Qui doveva fare l'ultimo impennata. Quando fa una cosa del genere, sostanzialmente, è un'inversione di trend di breve periodo. 1, 2, 3, quindi lower high, lower low, ragazzi, ok? Inversione di trend di breve periodo. Quanto dura? Un mesetto, secondo me, se questa fase ciclica non sta andando ancora a completarsi, è pericolosa? Tanto e non quanto. Per medio-lungo periodo no. Nel breve periodo può essere fastidiosa, ragazzi, perché potrebbe raggiungere anche prezzi magari più importanti. Intanto, andiamo a ragionare, per esempio, dove può arrivare in termini di trend ribassista questa fase di chiusura di questa struttura mensile. Il primo livello l'ha raggiunto proprio nella giornata di oggi, io sto registrando questa mattina, quindi qui, ragazzi, in questa zona, cioè i 26.000 circa, ha toccato 26.100, più o meno ha raggiunto. Poi c'è un secondo livello che è un po' più basso, 25.003, che è la fase di pullback dei precedenti massimi. Se invece crasha una cosa del genere diventa un macello perché sostanzialmente ha poi una struttura molto più ribassista, può arrivare sostanzialmente anche in questa zona intorno ai 23.000. Non so, 23.000, ragazzi, io li vedo possibili solo se il mercato non fa questa gamba a rialzo per poi chiudere, quindi se scende bruscamente, insomma, così. Altrimenti i 25.000 come zona potrebbero essere sufficienti. Questa struttura in pratica di prezzo, questa zona qui, potrebbe essere sufficiente a reggere questo movimento al ribasso. Poi, il successivo movimento rialzista non andremo a monitorare perché, appunto, come vi dicevo, può far parte dell'ultima fase di questo trimestrale oppure no. Però, sostanzialmente, la probabilità è che ne faccia parte perché ancora è passato troppo poco tempo quindi, sostanzialmente, un po', magari potremmo stare in barra di congestione. La barra di congestione è possibile. Sì, però noi dobbiamo renderci conto che poi non vorrei che i mercati si vadano a fare un giochino, cioè si sono decorrelati da Nasdaq eccetera nella fase di alzista e si ricorrelano nella fase di bassista perché sono deboli su deboli. C'è la questione del spauracchio del governo degli Stati Uniti che deve vendere i 6 billion in pratica di bitcoin. Molti dicono che alcuni l'hanno venduti altri no, non si capisce bene, non ci sono informazioni precise e dettagliate su questa cosa. C'è da dire però che un po' la paura questo l'ha creato. Infatti, proprio lo spike di quella giornata e quella candela ha creato un po' questa questione di paura. Ma, sostanzialmente, anche quello, ragazzi, non credo che gli Stati Uniti vogliono vendere a prezzi drastici, basti, certo è che se vendono e sellano in maniera brusca cresce il mercato assolutamente, senza dubbio. Quanto è durato il precedente movimento al ribasso di bitcoin dal minimo al minimo? È stato un mensile di 25 giorni, ragazzi, ed è stato sufficiente a chiudere tutta la struttura del ciclo trimestrale precedente che era molto lungo. Questo qui sta durando più o meno la stessa struttura, questo ciclo mensile ribattista, però non basta a chiudere il ciclo trimestrale, secondo me, perché arriviamo a due mensili e la probabilità che il mercato chiuda qui un trimestrale è bassa, cioè può fare, appunto, come vi dicevo, l'ultima struttura ciclica che a quel punto o è ribassista o è ribassista, cioè o è neutro tra le ribassi, cioè non so, non c'è storia, quindi sostanzialmente un po' ci mette in difficoltà se siete dei trader fate short, ovviamente è questa una fase dove è più conveniente tentare di shortare i pump del mercato piuttosto che fare il contrario e sguicciato, però per una decina di giorni, venti giorni, diciamo in questo modo. Detto questo ragazzi vi faccio vedere anche questo grafico interessantissimo perché ha esattamente i due cicli trimestrali che così, insomma, come li ho centrati io ma ancora non sappiamo il secondo quanto durerà, questo qui io l'ho settato più o meno in maniera standard 90 giorni quindi molto semplice ma vedete il canale che sta percorrendo tra l'altro ho fatto un mini video proprio su questo canale un short su questo canale per youtube vedete proprio come sta effettivamente facendo questo zig zag al ribasso per chiudere questa fase. Allora l'attesa temporale se rispetta questa centratura è per il 7 luglio e il 7 giugno scusate la chiusura di tutto il movimento ma mancherebbe se esegue questo canale discendente e questo canale appunto è così ragazzi mancherebbe appunto un piccolo hype una piccola parte rialzista per poi chiudere i giochi totalmente. Allora questa è la questione che vi sto dicendo un paio di giorni forse il weekend forse questa settimana per chiudere questo ciclo mensile e magari attendere un mini rimbalzo un mini rimbalzo che può essere molto importante ci sono tante considerazioni da fare anche perché probabilmente per chi ama gli inversi è iniziato un nuovo ciclo annuale inverso e quello che stiamo vedendo è appunto un nuovo ciclo annuale inverso in partenza che però è al momento molto debole quindi buono per i mercati perché poi la questione quindi di nuovi massimi e tutto l'ambaradam si può definire rimandata esclusivamente alla seconda parte di questo ciclo attuale quindi da giugno in poi giugno luglio in poi per l'estate al momento fine dei giochi almeno così ci dice l'analisi tecnica qualsiasi situazione diversa da questo contesto è un'anomalia che andrà poi compresa ragazzi ma che ha ovviamente una bassa probabilità di andare a verificarsi volevo darvi notizie migliori però non sono del tutto negative queste notizie ragazzi perché i mercati devono anche respirare ogni tanto l'importante mantenere dei livelli di prezzo vi avevo già detto all'inizio dell'anno che il 2023 non me lo aspettavo un anno di hyperbull run eccetera un anno di consolidamento ma comunque bitcoin ha fatto meglio i compiti a casa di quello che ci aspettavamo il target dei 28 29 è stato ampiamente raggiunto ora dobbiamo mantenerci in salute siamo a maggio è troppo presto l'anno chiude al dicembre gennaio almeno un annuale di bitcoin quindi c'è tanto tanto tempo tante cose da poter fare a questo punto da un punto di vista da trader ovviamente è sempre meglio per gli investitori in questa fase questi sono anni da trader perché i mercati danno più vantaggi no più swing di questo tipo che permettono ai trader di fare gain se sono dalla hanno progettato diciamo dei trading plan corretti e sono dal lato giusto va bene allora detto questo noi ci aggiorniamo nella prossima settimana ciao a tutti